All'Aquila è nato Open Data Covid, il primo portale in Italia che permette di geolocalizzare i contagi e di associarli anche alle patologie pregresse dei cittadini, un'applicazione molto importante dedicata all'impatto del virus e alla salute della popolazione che vive in provincia dell'Aquila. Grazie al portale presentato nei giorni scorsi, i cittadini e le istituzioni potranno seguire l'evoluzione sul territorio dei contagi, ma anche della campagna vaccinale, con dati che verranno aggiornati spesso, relativi a tamponi, ricoveri, vaccini somministrati. Nel portale sono presenti anche delle mappe interattive che consentiranno all'utente di capire anche dove si registra una concentrazione maggiore di casi in provincia. Open Data Covid è consultabile all'indirizzo www.opendatacovid.it, ma ci si può arrivare anche dalla piattaforma classica di opendatalacuila.it. Il professor Roberto Aloisio è responsabile del progetto. Open Data Covid è una raccolta dei dati relativi all'ASL1, all'ASL dell'Aquila di Avezzano Sulmona, una raccolta molto puntuale con i dati di tutti i singoli assistiti dell'ASL, le patologie pregresse di queste persone e i dati del Covid, quindi positivi, vaccini. In questo modo incrociando queste due informazioni, le fasce di età, le patologie pregresse, le abbiamo desunte dai codici di esenzione dal ticket, è possibile avere una mappa sia dell'evoluzione della pandemia, dell'evoluzione della campagna vaccinale, che è molto importante, ma anche incrociando queste informazioni è possibile capire quali sono quei sotto insiemi degli assistiti della popolazione della provincia più a rischio, questo nell'ottica sia di fare un monitoraggio più puntuale e soprattutto in futuro di poter disegnare delle strategie di cura terapeutiche mirate a particolari strati della popolazione. Il sito viene aggiornato settimanalmente, chiaramente il sito è anonimo, rispettiamo ovviamente tutte le richieste di legge relative alla privacy. Dal lato dell'ASL però c'è un cruscotto privato che gestisce solo l'ASL in cui i dati non sono anonimi e quindi in quel caso è possibile proprio, come dire, rintracciare la singola persona e fare quelle campagne mirate di cui parlavo prima. Il progetto è nato all'interno del Comitato Tecnico Scientifico nominato dal Comune per l'emergenza Covid ed è stato realizzato dal Gran Sasso Science Institute, eccellenza del territorio, dall'ASL1, dall'Università e da Open Police. L'esperienza del Gran Sasso Science Institute è stata fondamentale in quest'ennesimo strumento di conoscenza, in quanto già ha portato avanti esperienze simili con open data ricostruzione non solo, nell'ottica di considerare i dati come un bene pubblico che per questo va reso fruibile e trasparente cittadini ad istituzione agli operatori sanitari.